vi spiego come si levano le notifiche da google chrome per non farla arrivare sempre sul cellulare tutti i giorni tutti i minuti e tutti i secondi si va su chrome si va su i tre puntini che ci sono qua al lato in alto poi si va su impostazioni si va su notifiche e adesso disattivato qua si deve cliccare qua si clicca qui 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 compaiono le cose cliccando qui non compaiono più perché android sta bloccando la visualizzazione sul dispositivo delle notifiche dell'app di chrome ecco qua